Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video decisamente diverso dal solito perché oggi non andiamo ad aggiornarvi sulle ultime novità del mondo Apple ma parleremo di WWDC e di quelli che sono stati i 10 momenti più importanti tra flop e invece grossi annunci che sono avvenuti alla WWDC proprio perché mancano ormai meno di due settimane alla WWDC di quest'anno che porterà grosse novità per iOS 13, WatchOS, MacOS e poi beh ci sarà anche un'altra novità molto importante che potrete seguire su questo canale ma per il momento non vi dico nulla Prima di partire però stavo quasi dimenticando di presentarvi il nostro sponsor di oggi che è Raid Shadow Legends è un gioco in stile RPG con una grafica che mi ha veramente colpito da morire perché siamo praticamente al livello della grafica delle console e tra l'altro anche le animazioni del gioco sono fluidissime, bellissimo poi ci sono questi personaggi guardate come sono dettagliati anche loro sono assolutamente incredibili ci sono tantissimi di questi campioni che poi si sfidano nel corso del gioco e affrontano i nemici in tutto con le classiche meccaniche di RPG quindi combattimenti a turni una serie di potenziamenti che potete selezionare, acquistare e poi utilizzare anche in battaglia per avere un vantaggio competitivo sui vostri nemici una trama bellissima nonostante appunto sia soltanto un gioco mobile insomma un gioco che mi ha veramente catturato e che vi posso soltanto consigliare potete scaricare Raid Shadow Legends dai link qui sotto in descrizione è gratuito sia per iPhone che per Android e per quanto riguarda il link in descrizione non è un link a caso perché infatti se vi scrivete da quel link mio personalizzato troverete in regalo anche un campione epico gratuito e anche 50.000 monete d'argento che vi torneranno utili per la vostra avventura tra l'altro vi conviene partire presto per iniziare a crescere di livello dato che poi tra non moltissimo si terrà uno dei primi tornei per questo gioco e ci sono dei premi davvero succulenti link in descrizione allora partiamo dal primo momento epico di cui mi sono anche dovuto informare perché all'epoca pensate avevo solo 5 anni WWDC del 1996 Apple presenta quella che doveva essere l'evoluzione più importante per Mac OS quindi questo Copeland OS un sistema operativo che pensate un po' addirittura non aveva neanche il multitasking e che comunque secondo Apple sarebbe stato il futuro dei suoi computer qui ci troviamo praticamente nel periodo in cui Steve Jobs era stato cacciato da Apple e si trovava in Nex Apple senza Jobs cercava una soluzione al software e appunto questa soluzione fu mostrata agli sviluppatori, al pubblico ed era stata anche prevista una beta, il rilascio di una beta che però non è mai avvenuto vi ricordo un po' la storia di AirPower ecco Apple cosa fece subito dopo? acquistò Nex fece quindi rientrare Steve Jobs all'interno dell'azienda e poi belle cose sono andate come sappiamo con lo sviluppo di Mac OS 1997 un anno dopo ed è proprio il momento in cui Steve Jobs torna in Apple e fa la prima apparizione alla WWDC tra gli applausi degli sviluppatori, dei presenti e tra l'altro è quello il contesto in cui viene coniato per la prima volta il motto Think Different e vengono sottolineate anche le operazioni che Steve Jobs avrebbe messo in atto da quel momento in poi come l'estrema riduzione dei prodotti che era un grosso problema di Apple in quel periodo avevano tantissimi prodotti c'era una grossa frammentazione in realtà quindi un po' come vediamo oggi nel mondo Android passiamo però subito al 2000 una grossa modifica interessa agli sviluppatori Mac OS ed è un qualcosa che poi ritroveremo qualche anno dopo anche su iOS Apple apre per la prima volta le API di Mac OS agli sviluppatori consentendo anche a chi appunto non fa parte dell'azienda di Cupertino di avere accesso ad alcune parti del sistema operativo per integrare i loro software al meglio le API sono poi diventate uno dei tratti distintivi di Apple e proprio dei suoi sistemi operativi con una costante e continua apertura nei confronti degli sviluppatori 2003 un nuovo annuncio questa volta però di hardware si parla del Power Mac G3 un computer veramente famosissimo iper popolare che ha cambiato davvero tanto le cose e che è stato introdotto da Apple e da IBM il Power Mac G5 fu lanciato pensate un po' con la prima versione di Safari e con OS X Panther io me lo ricordo ancora questo me lo ricordo veramente in modo molto chiaro anche perché poi cercai di installarlo su una serie di PC Windows tramite Hackintosh ma vabbè un'altra milestone importante arriva nel 2005 quando Apple fa una scelta clamorosa e che tra l'altro ha segnato poi tutti i giorni nostri anche perché è l'anno in cui alla WWDC viene annunciato il passaggio dalla tecnologia Power PC alla tecnologia di Intel sarà questa quindi la prima volta in cui Apple abbandonerà i Power PC e passerà invece ai processori di Intel dato che i Power PC non erano più in grado di alimentare a sufficienza i nuovi Mac tra l'altro questo fu uno degli annunci più clamorosi più scenici che avvennero alla WWDC perché pensate un po' il CEO di Intel Paul Hotellini emersi da una nuvola di fumo addirittura indossando una tuta protettiva un po' come quella di Jesse e Walter White in Breaking Bad proprio a testimoniare insomma l'importanza di questo grosso annuncio passiamo al 2006 altro avvenimento molto importante per quanto riguarda l'ambito computer anche perché l'iPhone nel 2006 ancora non esisteva ma Steve Jobs presenta Bootcamp una novità che avrebbe aperto le porte all'integrazione semplice e concreta di Windows anche all'interno dei Mac Bootcamp oggi lo conosciamo tutti è quel software che automatizza la procedura di installazione di Windows su Mac e va anche in automatico a recuperare tutti i driver che servono per far funzionare le periferiche e la dotazione tecnica dei Mac con Windows la novità fu di quelle importantissime anche perché in quel periodo storico molti software per Mac ancora non c'erano quindi questo dava modo comunque di avere anche Windows come opzione e anche chiaramente la possibilità di avere un dual boot all'avvio per scegliere tra Mac e Windows e poi 2007 succede una cosa molto importante nel 2007 probabilmente saprete di cosa si tratta ma Steve Jobs sale sul palco della WWDC evidentemente emozionato dice due semplici cose questo è un giorno che sto attendendo da tantissimo e dopodiché inizia a prendere per i fondelli tutti inizia a dire oggi presenteremo tre prodotti un telefono, un iPod con touch control e un internet communication device e lì non applaude nessuno ma alla fine quel device era uno solo era l'iPhone, era la versatilità dell'iPhone che si traduceva per la prima volta in un prodotto visto e completo che poi durante il corso della conferenza fu mostrato in tutte le sue caratteristiche lasciando essere fatto il pubblico che era abituato a smartphone non poi così smart con tastiere meccaniche eccetera eccetera un momento che ha segnato la storia dell'evoluzione tecnologica e che ha cambiato il mondo della telefonia oggettivamente in modo irreparabile per sempre ci fu anche un annuncio strano però perché addirittura in quel momento quando comunque ad esempio Symbian proponeva già una gestione ad app Apple annunciò che soltanto le app browser quindi le web app sarebbero state supportate da iPhone e infatti così fu fino ad iPhone 3G infatti un anno dopo altro momento epico che ha segnato i tempi anche moderni Apple presenta l'App Store e per la prima volta insieme anche ad iPhone 3G consente agli utenti di installare delle app, dei giochi, di aggiungere funzioni al dispositivo in sostanza le prime app erano molto molto semplici mi ricordo mi divertivo tantissimo con il mio primo iPhone che era proprio un 3G con questa app della birra che tu facevi così e sembrava che bevessi la birra per dirvi quanto erano stupide le app poco complesse rispetto a quelle che abbiamo oggi però comunque quello è stato il momento che ha segnato un'innovazione importante non solo per gli utenti ma anche per gli sviluppatori che hanno trovato una casa hanno trovato un lavoro nell'App Store e molti di questi sono partiti proprio con la loro avventura nel 2008 avventura che continua fino ad oggi per molti, per molti brand, per molte anche singole persone che hanno scelto comunque l'App Store per guadagnare qualche soldino e realizzare dei contenuti digitali poi che tutti possono scaricare o acquistare direttamente dal proprio smartphone 2009 e 2010 furono anni non proprio top perché comunque nel 2009 arrivò l'iPhone 3G S con delle novità soprattutto legate al software iPhone OS 3 che portava gli MMS e la registrazione video ma soprattutto su iPhone 3G S invece con la WWDC del 2010 ci fu l'annuncio importantissimo dell'iPhone 4 ma si parlò molto di hardware e poco di software iOS 4 comunque fu un bel aggiornamento wallpaper, la possibilità di creare le cartelle FaceTime però solo per iPhone 4 ma forse diciamo l'altro momento importante fu quello del 2011 l'ultima apparizione in pubblico di Steve Jobs mi ricordo benissimo quel keynote appariva evidentemente in uno stadio già abbastanza critico della sua malattia abbastanza sofferente, abbastanza magro ma comunque ebbe modo di portare a termine tutto il keynote presentando alcune novità molto importanti lui soprattutto concentrò tutta la conferenza su iCloud iCloud che fungeva praticamente da collante tra iOS 5 e il nuovo Mac OS ma che soprattutto avrebbe segnato anche tutti gli anni a venire iCloud che ancora oggi sappiamo cos'è, lo utilizziamo tutti con costanza nella sua prima versione era molto molto limitato non c'erano tantissime funzioni però già sul palco della WWDC 2011 furono presentate caratteristiche come iCloud streaming per quanto riguarda la libreria foto non c'era la libreria foto di iCloud ma c'era già lo streaming e c'erano anche tutte le funzioni come trova il mio iPhone non c'era trova il mio amici, fu presentato qualche anno più tardi ma comunque la base di iCloud fu presentata da Jobs iCloud che poi tra l'altro prendeva molto da MobileMe che era il servizio che Apple utilizzava in precedenza ma che fu completamente stravolto reso completamente gratis perché all'inizio MobileMe aveva comunque una cifra d'ingresso se lo si voleva utilizzare iCloud comunque anche con un piano limitato sarebbe stato gratuito inizialmente e fu una rivoluzione pazzesca fu la spinta decisiva per andare sul cloud da cui poi ne beneficiarono tutti anche i player che erano già in quel mercato come Dropbox e poi tutti gli ultimi anni in realtà sono stati ricchi di novità abbiamo visto tantissime nuove cose a partire dalla WWDC del 2012 mi sa quando furono presentate iTunes Radio e iTunes Match che erano un po' i prodromi, erano i segnali di un interesse di Apple verso il mondo della musica ma se vogliamo forse l'ultimo grosso annuncio importante che c'è stato ad una WWDC è stato quello di Apple Music servizio annunciato nel 2015 nella WWDC 2015 che ha poi passato un periodo di beta testing ma che poi è diventato il servizio che conosciamo tutti e che beh magari proprio quest'anno con la WWDC 2019 potrebbe essere un po' migliorato sarebbe anche l'ora dato che comunque dal 2015 ad oggi non è che sia cambiato proprio tantissimo e quindi ragazzi cosa attenderci da quest'anno? secondo me sarà un anno importante sarà una WWDC che porterà con sé un iOS completamente nuovo un watchOS ancora migliorato con nuove funzioni pensate per la salute e che ci dirà sicuramente già qualcosa su quelli che saranno i prodotti hardware che vedremo poi a fine anno quindi l'appuntamento è per il 3 settembre sintonizzatevi sulle pagine di iPhoneItalia.com ma anche su questo canale YouTube e anche sui nostri canali social e sul mio social preferito in questo momento cioè il mio Instagram perché state tranquilli non mancheranno contenuti un po' su tutte queste piattaforme come vi ho detto quest'anno la seguiremo in modo un po' diverso quindi metteremo forse da parte il classico live blog ma avremo contributi interessanti e vi dico interessanti non mi fate dire altro ma contributi non mi fate dire altro però insomma sarà la migliore WWDC di sempre forse per quanto riguarda noi da quello che ci aspettiamo e da quello che già si sta dicendo seguitela e noi ci rivediamo molto presto in un nuovo video ma anche altrove sempre qui su iPhoneItalia.com ciao a tutti da Andrea Cervone